buongiorno amici oggi 21 maggio 2014 sono le ore 14 circa mi sono permesso di andare a fare un giretto nei boschi nei miei posti e guardate cosa ho trovato un disastro assoluto fascine guardate piante di faggio buttate tagliate giù a pezzi guarda sentieri dove passano il trattore qui c'erano massimo massimo metro e mezzo di larghezza una provinciale guardate 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 sassi tutti guarda guarda giù i trattori hanno disfato tutto guarda guarda che bosco guarda un bosco stupendo per porcini guarda 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 giù guarda cosa c'è ancora fascine guarda qua era un posto cino coi fiocchi ma di quei porcini bellissimi un profumo guardate cosa trovo guardate magliette gialle guarda io addirittura c'è una maglietta gialla buttata giù guarda 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 che bosco hanno ridotto guarda mi vien da piangere guarda i miei posticini d'oro guarda ma vi rendete conto guarda guarda che roba per terra guarda tronchi buttati giù guarda non c'è un po di maniera nei boschi neanche pulizia niente ma qui controlli non ci sono non lo so io piante neanche numerate mi vien da piangere guarda guarda quel vallone qua era meraviglioso le spondine guarda trovo di quei funghi qua che stupendi e adesso qui cosa fai poi voi lo sapete è fungiat per trovare un posto di funghi qua bisogna sgobbare poi passano anni eh trovare posto passano anni guardate guardate no non credo i miei occhi guardate guardate demolite tutti i faggi più belli cadono giù anche i rami sentite ma queste strade guardate guarda passavano su un metro e mezzo di larghezza sono diventati tre metri guarda che roba guarda 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 non è finita eh guarda 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 questo angolino qua ho trovato di quei funghi da da baciare guarda questo angolino qua guarda guarda sotto quei faggi qui ma sai che belli quest'anno volevo venire con mio amico pedroni micologo a fare i bei filmati cosa lo porto qua a fare no vergogna basta per me qua è finito cambio posto ma non è la parola eh cambio posto ma ci vogliono anni prima di scoprire un posto dei funghi eh non è facile guarda che boschi meravigliosi qui c'era un vallone guarda c'era un vallone giù qua che era uno spettacolo guarda 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 che roba no è un vero peccato ma è possibile che i controlli qua non vengono a vedere c'è in giro sacchetti ma è possibile guarda magliette guanti buttati la sacchetti guarda sacchetti buttati la a me non raccogliete queste cose ma basta delusione assoluta adesso vado giù avviso mio amico pedroni che bisogna andare a cercare un posto subito mese prossimo amici vi saluto e col magone me ne vado in giù ciao ciao a tutti